Nel 1977 usciva al cinema un film di un regista esordiente, George Lucas, destinato a diventare la più grande saga cinematografica di sempre. Da quel giorno ad oggi, la storia si è evoluta e Star Wars è entrato a tutti gli effetti nel nostro immaginario collettivo. Per celebrare l'uscita dell'ottavo capitolo della saga, Star Wars, gli ultimi Jedi dal 13 dicembre al cinema, le quattro famiglie artigiane più importanti della tradizione presepiale partenopea, hanno deciso di realizzare un'opera tributo originale di grandi dimensioni che vede protagonisti oltre 20 personaggi storici e più recenti dei film di Star Wars, con esemplari unici modellati e dipinti a mano. Il presepe sarà esposto dall'8 al 10 dicembre in via San Gregorio Armeno 28, presso la location storica del Chiostro Capuano. Enzo Capuano, Marco Ferrigno, Jenny Di Virgilio e Salvatore Gambardella, sono gli artisti, appartenenti a famiglie capostipiti della terracotta napoletana dal 1800, che hanno lavorato a questo speciale omaggio, studiando tutti i dettagli di stile dei personaggi, per realizzare, ogni stuatuina, vengono chiamate anche pastori, seguendo la tradizionale lavorazione a mano prevista dall'antica arte presepiale partenopea Star Wars, gli ultimi Jedi. Il trailer.